segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dare la parola a massimo franco sia perché aveva qualcosa da dire rispetto al tema rapporto con il mondo conservatore e poi sull'altra grande questione se in quale se abbia combattuto davvero no il tema degli abusi sessuali lo scandalo cominciato in america e poi esteso se sia stato perché poi scrisse una lettera anche di scuse a un certo punto particolare diciamo e da inquadrare però questi due temi erano rimasti nel nostro insomma da chiarire nel nostro dibattito di oggi ho apprezzato molto l'analisi che ha fatto il presidente della fondazione tatarella mi è sembrata molto puntuale e giustamente ha ricordato tutte tutte le opere che ha fatto che ha fatto benedetto c'è però un tema che il mondo conservatore il mondo tradizionalista cattolico in realtà si è spaccato dopo la rinuncia di benedetto perché primo il custode dell'ortodossia che si dimette una specie di ossimoro una contraddizione in termini secondo perché dopo la rinuncia c'è stata una parte minoritaria per fortuna che ha continuato a pensare che benedetto fosse l'unico papa legittimo mettendo in discussione il conclave la cosa un po paradossale fatta dai tradizionalisti una parte ha accusato ratzinger di non essere abbastanza critico nei confronti delle riforme di francesco e un'altra parte ancora e lo ha perdonato per la rinuncia ma ha ritenuto che avrebbe dovuto essere più chiaro su alcuni temi quindi questo è il primo elemento che fa capire quanto sia francesco sia ratzinger abbiano un pochino frantumato il mondo tradizionalista cattolico per quanto riguarda la pedofilia e è stato gettato molto fango su su benedetto sedicesimo sottovalutazioni coperture in tempi antichi lui è vero che ha scritto una lettera una lettera nella quale ha fatto capire che le sue responsabilità per quanto riguarda il periodo in cui era stato arcivesco a monaco di baviera erano state responsabilità più oggettive che soggettive però si è assunto e ha dato alla chiesa la responsabilità di non avere vigilato abbastanza quindi di essere stata prigioniera di una cultura del segreto anche se per onestà bisogna dire un'altra cosa all'inizio del 2000 degli anni 2000 quando era ancora cardinale custode dell'ortodossia fu ratzinger il primo a capire che era finita l'epoca nella quale si poteva considerare la pedofilia un peccato e non chiamarla col suo nome cioè un crimine e fu frenato dalla curia fu frenato dalla curia nella quale la cultura del segreto era e in parte mi dispiace dirlo ancora è presente perché anche in questo papato di francesco ci sono delle contraddizioni delle ombre molto anche su questo anche su questo sì sinceramente sì non vedo una svolta in termini di comportamenti in termini di di leggi sì ma di comportamenti no e se posso aggiungere solo un elemento questo è successo nel 2001 quando scoppiò lo scandalo della pedofilia a boston e fu in contemporanea con la distruzione delle torri gemelle da parte dei terroristi di al caeda lì si disse che era finita una doppia un doppio unipolarismo quello militare americano bombardate all'america sul suo territorio e quello morale della chiesa che si era macchiata dei crimini della pedofilia in una città americana si pensò che fosse un fatto solo americano in realtà era l'onda lunga della fine della guerra fredda con la chiesa cattolica che non era più considerato il braccio morale dell'occidente quindi protetta o comunque con qualche indulgenza sulla pedofilia ognuno a quel punto doveva guardare in faccia la sua cultura e aggiornarla e ho l'impressione che per quanto riguarda la chiesa cattolica questo aggiornamento non sia ancora completato allora grazie a massimo franco anche per la risposta a queste domande che erano rimaste e come dicevamo ancora ci sarebbe molto da dire però ciao ciao